Salve a tutti ragazzi, sono Freakpahengs da Isu, ovviamente su Osu, ma questo ormai si inizia a capire Benvenuti al quarto episodio dell'Osu Diary In questa puntata vi farò vedere una canzone che per un pelo non sono riuscito a fare Insane ovviamente Che per un pelo non sono riuscito a fare full combo La full combo era 1100 Io ho perso perché ancora non ho capito bene come fare Lo stream, poi subito dopo lo stream un reverse e subito dopo il reverse uno slide Io al reverse una volta ho fatto slide break e una volta l'ho proprio missata Perché non capisco, cioè dopo riguardando il replay ho capito Però ancora ci devo prendere bene la mano in quelle occasioni Ma tutto sommato la canzone è andata abbastanza bene Come potete vedere qui la performance è stata alta Cioè vicino al tipo, che ne so, accuracy 98% eccetera Dopodiché ho avuto un po' di problemi qui dove ho fatto lo slide break e ho perso un po' di accuracy Ma per il resto ho preso una A Sono finito tipo 6 centesimo, una cosa del genere Mi ha dato lo stesso PP questa cosa strana Ho preso A Quindi andiamoci a rivedere il replay perché è anche molto bello da vedere Una canzone Chain Destruction di Atsunemiku Fit Saku, Sakuzio O il contrario, vabbè comunque canta Atsunemiku La musica probabilmente l'ha fatta questo Sakuzio E niente, andiamoci a rivedere il replay Grazie a tutti 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 Grazie a tutti